Un buon trattamento anti-età per il viso aiuta la pelle a rigenerarsi, mantenersi elastica e luminosa, prevenendo in questo modo l'invecchiamento precoce. Scegliete il trattamento da realizzare in casa in base al vostro tipo di pelle. Mantenete la pelle bella anche quando gli anni avanzano, aiutandola a rigenerarsi. La natura porta l'epidermide ad assottigliarsi, voi però potete intervenire affinché si mantenga nel miglior modo possibile. Ricordatevi di prendervene cura, evitando i comportamenti sbagliati che la danneggiano. Esponetevi al sole estivo con la giusta protezione. Utilizzate le creme da giorno, funzionano da scudo per l'inquinamento atmosferico. Integrate nella vostra dieta molta frutta e verdura. Ricordatevi che il fumo accentua la formazione delle rughe, sia per i movimenti ripetuti della pelle, sia perché ossida le cellule. Eseguite un trattamento anti-age come dall'estetista. Esistono prodotti che rilasciano principi attivi capaci di rallentare l'invecchiamento cutaneo, rinforzano il film protettivo e trattengono l'acqua nel tessuto. Ripetete il trattamento anti-age una volta a settimana, idratando però la pelle ogni giorno con la giusta crema. Detergete la pelle del viso e del décolleté usando un prodotto specifico per la vostra pelle. Depurate il viso con una lozione tonica analcolica. Agisce come sebo regolarizzante. Stendete un velo di crema acidificante sul viso e lasciatela agire per 10 minuti. La pelle la assorbirà praticamente tutta. Il resto eliminatelo con una spugnetta umida. Eseguite un bel massaggio per riattivare la circolazione. Utilizzando un siero anti-età, 10 minuti sono sufficienti a far assorbire il prodotto. Applicate una crema nutriente per concludere il massaggio. Stendete la maschera anti-rughe e lasciatela in posa 10 minuti. Dopo, toglietela con acqua tiepida e applicate ancora siero anti-età. Iniziate con questi trattamenti prima ancora che le rughe compaiano. La vostra pelle vi ringrazierà.